Vuoi studiare l'italiano? La lingua dell'arte, della musica, della moda, del cibo e del vino? Se sei a New York o nel New Jersey o in Connecticut, il punto di riferimento è lo IACE, Italian American Committee on Education. IACE è un'organizzazione non profit sostenuta dal Ministero degli Affari Esteri e dal Consolato Italiano di New York. Oltre 60.000 studenti in più di 300 scuole pubbliche, private e americane studiano la nostra lingua grazie a corsi finanziati dallo IACE e i ragazzi delle scuole superiori possono iscriversi agli esami di Advanced Placement in italiano. Attraverso i suoi corsi, IACE organizza anche attività extracurriculari per conquistare nuovi studenti con visite alle sedi new yorkesi dei più innovativi marchi del Made in Italy e con programmi italiani con prestigiose istituzioni come la Metropolitan Opera House. Grazie allo IACE, gli insegnanti d'italiano possono seguire corsi di formazione professionale e partecipare a viaggi di studio in Italia. Fuori dalle scuole, adulti e bambini studiano la lingua e la cultura italiana con i corsi che IACE organizza in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di New York. Vuoi saperne di più? Visita il sito iacelanguage.org